Seppur in remoto causa misure anti-covid, il nuovo segretario cittadino del PD Guido Siracusa ha scelto simbolicamente di affrontare il congresso di ieri direttamente dalla sede del circolo Gela Centro. Insieme a lui il neocomponente della segreteria provinciale Giuseppe Favitta, Siracusa, riprendendo alcune affermazioni dal consigliere civico Davide Sincero, presente come molti altri esponenti politici locali, seppur non aderente al PD, ha ricordato Piola Torre e chiesto che anche l'amministrazione comunale si faccia carico di sostenere la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. 18 pagine di una relazione che il neosegretario Dem ha sintetizzato durante il suo intervento. Ha parlato di un incarico di responsabilità, ricordando le sue radici democristiane nel giorno dell'elezione a segretario nazionale del partito di Enrico Letta. Il PD, secondo Siracusa, deve essere un punto di riferimento, ha ringraziato Peppe Di Cristina, attuale segretario provinciale che ha guidato il partito in città. Ha fatto anche riferimento ai tagli della regione che continua a revocare i finanziamenti ad iniziare da quello per la darsena commerciale. Siracusa inoltre ha ricordato la necessità di ricostruire il centro-sinistra locale e di aprire il campo. Qualche passaggio l'ha riservato al rapporto con il sindaco Lucio Greco intervenuto in apertura di assemblea. Secondo Siracusa non bastano alcune affermazioni, ci sono delle differenze di vedute che non sono state ancora superate. Ci sarà eventualmente quindi bisogno di sedersi intorno ad un tavolo per verificare se ci sono le condizioni per avere una vera condivisione. Per Siracusa quindi un'eventuale ripresa del rapporto politico con la Giunta va prima di tutto verificata, senza incorrere nei difetti di comunicazione del recente passato che hanno poi portato idem a lasciare giunta in maggioranza. La posizione di Greco non pare così intransigente e intervenuto in apertura del congresso. Ha detto di attendersi una posizione chiara e netta senza equivoci dal PD. Si è detto anche certo che responsabilmente il PD non farà mai mancare il sostegno alle scelte delicate che devono essere assunte dall'amministrazione comunale. Secondo Greco la città non deve cadere in mano a gruppi di potere che antepongono interessi privati a quelli della città stessa. Una tesi che l'avvocato greco ha spesso rilanciato in più interventi pubblici. La segretaria provinciale Peppe Di Cristina, che pare molto possibilista, ha rilanciato il patto per la città ad allargare ad altre forze. Un varco politico non da poco, soprattutto in una fase, ancora tutta da scrivere politicamente per la giunta. Per Di Cristina, Gela deve essere come Termini Merese e Taranto in una nuova questione meridionale. Ha voluto ringraziare il sindaco Lucio Greco perché è stato in grado di mettere insieme una coalizione che dà risposte alla città e ha chiuso ad una certa destra. Il segretario provinciale ha comunque confermato tutto il supporto per Siragusa. Il congresso DEM ha aperto a tanti aderenti e sostenitori, ma anche a presenze politicamente non certo così vicine. C'erano anche i sindacati. Siragusa, al termine, ha già definito le prime nomine il vicesegretario Elicia Bela, mentre responsabile della organizzazione del partito locale è invece Maria Ferrera.